Allora, un bel risultato, soprattutto per come si erano messe le cose al termine del primo tempo, bella rimonta, bel risultato. Sì, sì, penso che sia fatto una buona partita, solo che in questa situazione che ci siamo noi è un po' il discorso che si fa un minimo sbaglio e si prende gol, questa è la situazione. Infatti nel primo tempo due sbagli, forse neanche troppo grossolani e due punizioni, purtroppo la Serie A è questa. Sì, 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 è così, però anche penso che è la situazione in cui ci troviamo e penso che questa è una dimostrazione anche per noi che la possiamo fare, che questo è un pequeño miracolo che si può fare la salvenza. Certo, senti, ma squadra triste in quelle di Atalanta, squadra triste con il Torino, forse anche un po' rassegnata, no? Invece oggi, dopo appunto un primo tempo che poteva farvi crollare in fondo, giù nella buca, vi siete invece tirati su, che cosa è successo? No, penso che abbiamo cambiato l'atteggiamento e questo è il Livorno, questa è la squadra che vogliamo essere, quindi penso che questo deve essere l'atteggiamento di tutte le partite che mancano. Alla fine alla fine, grazie.